allora ragazzi la ventesima salita è conclusa ne mancano ancora 29 un'eternità non so se riuscirò a farle il mio obiettivo era 25 poi adesso mi fermo un po perché le temperature si sono abbassate mezzanotte meno un quarto ma già fa 8 gradi fra un po si abbasseranno ancora di più ora accendo i riscaldamenti faccio asciugare tutti i vestiti nel frattempo mangio non è dura ragazzi sto soffrendo più il freddo che la salita la salita ancora sto bene sto salendo con il 34 davanti e il 25 dietro il 28 ancora manco l'ho utilizzato perciò quindi la gamba c'è solo che sono rimasto solo solo nella notte non è bello non c'è stimoli ragazzi non c'è vabbè dai intanto vi aggiornerò più tardi